Per la sola ASL di Pescara si stima che siano oltre 100 i lavoratori precari del settore sanitario in attesa di una stabilizzazione contrattuale che renda merito ai sacrifici di due anni di pandemia, quasi 300 per la ASL di Lanciano Vasto Chieti. Manca però un numero preciso e definitivo di questo esercito di lavoratori e lavoratrici precari che assunti a tempo determinato anche tramite agenzie interinali sono stati chiamati in piena emergenza a tamponare la carenza di personale, ma che oggi da eroi nazionali rischiano di finire nel dimenticatoio della precarietà, abbandonati anche da quelle stesse istituzioni che ne tessevano le lodi. A denunciarlo è la CGL di Pescara in un'assemblea aperta anche ai politici regionali, come spiega il nostro microfono Massimo Di Giovanni della funzione pubblica della CGL di Pescara. La situazione è questa, queste lavoratrici e questi lavoratori che inizialmente sono stati valutati e considerati eroi dalle istituzioni ad oggi rischiano una fase di abbandono da quelle stesse istituzioni che ne tessevano le lodi. Ed è evidente che la finalità di questa nostra conferenza stampa in modalità aperta, quindi al quadro politico istituzionale, tutto inteso, compreso, quindi senza nessun colore politico, perché la sanità pubblica non deve, non può avere colore politico, noi riteniamo che queste lavoratrici e questi lavoratori, poiché vi è una carenza di personale sanitario pubblico, vi è necessariamente il bisogno di una stabilizzazione. Tra l'altro un riferimento legislativo nazionale consente quindi la possibilità di stabilizzazione, anche se non ricomprende tutte le tipologie di contratti a tempo determinato interinari che nel tempo si sono protratti in questa fase emergenziale. Incontrerete anche l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Veri, cosa vi aspettate? La dottoressa Nicoletta Veri ci ha fatto arrivare una telefonata prima della conferenza stampa, annunciandoci che non era possibile oggi per lei essere presente per impegni precedentemente assunti, ma ha voluto, poiché comprende le finalità di questa conferenza stampa aperta, ha voluto convocare un tavolo con noi presso l'assessorato alla Regione Abruzzo e rappresenteremo a lei le cose appunto che stiamo rappresentando in conferenza stampa a tutti i consiglieri e parlamentari abruzzesi.